Mi chiamo Scott, sono un funzionario di polizia. Daniel Haywood, sono... ero l'assistente del dottore. So che per lei è un momento difficile, ma... Per me? La sua morte è una tragedia per tutti noi. Il dramma è che le cose non cambieranno mai. Loro lo impediranno. Loro? Loro chi? Sa perché l'hanno ucciso. Per questo. Un giardino? Non è un giardino. È una farmacia. Per alcuni è un vero pericolo. Questa sindrome degenerativa, l'NDS, è un grosso affare. Siamo tutti schiavi dell'Absalon. Sì. Senza Absalon saremmo tutti morti. Certo, bravo, signor funzionario di polizia. Lei prende l'Absalon tutti i giorni. Lei fa il suo lavoro da sbirro. Vive la sua vita. È così che vanno le cose. Loro ci controllano. Ormai la nostra unica moneta è il tempo di vita. 22 minuti per mezzo chino di pane. 8 ore per una bicicletta. Se perdi il lavoro è la fine. Il dottor Reina voleva cambiare le cose. Non aveva creato l'Absalon per questo. L'Absalon era diventato un nemico. Ed è morto perché voleva superarlo. Senta, non capisco il nesso fra quello che mi sta dicendo e l'omicidio. L'Absalon deve essere preso tutti i giorni. Perché non insorga la malattia. Lavorava una cura per l'NDS. Mi scusi.